in tre ore e ieri sera anche l'inaugurazione di un nuovo club. È stato Giovanni Pisano, capitano storico di una salernitana che fu ed oggi il nuovo allenatore degli allievi nazionali, a tagliare ufficialmente il nastro in occasione dell'avvio delle attività del club Castelcivita Granata. Scortato dal responsabile del settore giovanile del club di Lotito e Mezzaroma, Ruggiero, il bomber siciliano è stato accolto con gli onori del caso dai tifosi di Castelcivita e per lui è stato come tornare indietro nel tempo. Al diare sono stato il capitano per tanti anni a Salerno. Ho avuto sempre modo comunque di andare sempre in club della serenitana e veramente mi fanno tornare a quando scendevo in campo qualche anno fa. Però adesso ho intrapreso un'altra carriera, quella dell'allenatore, alleno gli allievi nazionali, sono molto contento che sono comunque rientrato nella famiglia serenitana perché per me è la cosa prioritaria ripartire da questi colori che ho amato e tuttora per me sono al primo posto.